Avrebbero percepito illecitamente 150.000 euro beneficiando del reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto ha scoperto e segnalato alla Procura della Repubblica 17 persone. Tali beneficiari avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore per poter usufruire del sussidio. Gli accertamenti svolti dai finanzieri ionici hanno interessato target selezionati all'esito di specifiche analisi di rischio e dell'esame delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al corpo, oppure emergenti da mirate attività investigative svolte con l'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frudi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e in collaborazione con l'Inps. Contestualmente è stata avanzata alla Procura della Repubblica di Taranto una richiesta di sequestro delle somme indebitamente percepite. La competente autorità giudiziaria ha prontamente intrapreso specifici approfondimenti finalizzati a verificare la fondatezza delle responsabilità penali e dei presupposti per sottoporre a sequestro le somme indebitamente riscosse. Per il principio di presunzione di innocenza la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. I risultati di servizio conseguiti testimoniano ancora una volta l'impegno della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica Tarantina nell'azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali di sostegno a reddito.